io tutto il primo anno l'ho preso, non è che mi chiamo un buon anno ho spesso di fumare, io non riesco più davanti con i giovani a prendere una cosa che è una città l'anno scosta dove vai a pesare 92 kg mi chica, e non mi chica a favorire no, no, non puoi fumare, qua no, non mi chica